Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni di TV6. L'alta pressione subtropicale avvolge tutto il Mediterraneo, lo farà con alta probabilità fino all'inizio della prossima settimana, specie al centro e al sud Italia. Per quanto riguarda questo mercoledì 20 luglio, si prospetta una nuova giornata stabile, dominata praticamente ovunque dal sole, tranne qualche temporale sull'arco alpino di breve durata, tra pomeriggio e sera. Le temperature andranno rapidamente aumentando, specie al nord e sul lato tirrenico. In Abruzzo, una giornata ancora una volta estiva, dominata dal sole e dal caldo. Avremo massime fino a 33, localmente 34 gradi nei settori interni, specie nelle valli, nelle conche, dove avremo scarsa ventilazione. Le temperature minime stazionarie tra 19 e 25 gradi. Qualche nuvoletta possibile nelle aree interne, però non ci aspettiamo particolari fenomeni annessi. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. A tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Realizziamo i tuoi sisplati con la vita. Grazie a tutti. Realizziamo i tuoi nostri